Lavoro, te credo che lavoro, al consorzio, come quale? E se lo bravi che sei un artista! Al consorzio de Bonifida, come dove, a Latina, no? Come che voglio? Sto qui per esame? Se ho letto qualche cosa? No. Come faccio a studiare al lavoro? Come metto a leggere Kripke e Chomsky? Hai i miei fighici pezzi, te? Che me frega? Poi io non riconosco. Come che non riconosco un cazzo? Perché voglio fare esame? Mi mancano solo filosofia modale e teoriati di modelli, mi mollo così perché sei bella te. Come qui danno semiotica? Il Dams. E che? Ah, non è filosofia. Andiamo bene. Adesso me lo dici.